Assessore Fermi, oggi la Giunta ha approvato un provvedimento che gli studenti universitari aspettavano, oltre 76 milioni di euro come finanziamento per le borse di studio e aumentano i fondi per gli studenti fuori sede e per i pendolari. Sì, è un provvedimento importante in cui la Regione Lombardia mette quasi 19 milioni di euro. La Regione Lombardia, come sappiamo, è fortunatamente il sistema universitario Lombardo molto attrattivo. Abbiamo quasi un 33% di studenti che arrivano da fuori regione, abbiamo un 8% di studenti che arrivano dall'estero, quindi questo è motivo di orgoglio per la Regione Lombardia. I criteri di riparto dei fondi rispetto alle borse di studio devono necessariamente essere visti, anche alla luce di questa forte attrattività lombarda. Noi abbiamo fatto un grande sforzo, un grande sforzo, e voglio ringraziare, lo fa il sistema universitario, perché sono stati aumentati i fondi per ogni studente, è stata aumentata la platea di coloro che potranno beneficiare delle borse di studio e quindi aumentando sia la quantità della dote sia aumentando la platea, ovviamente il costo è maggiore. Quindi uno sforzo è stato fatto oggi, la sistema universitaria in maniera molto forte, uno sforzo l'ha fatto la Regione Lombardia per i prossimi anni, c'è bisogno un po' di rivedere anche questi criteri di riparto, anche partendo dal presupposto che la Regione Lombardia è la regione più attrattiva per i studenti a tutta Italia. Ovviamente ne potranno beneficiare anche gli studenti in sede, cioè quindi quelli che abitano a Milano e nelle altre province della Regione, e a loro comunque va un contributo che vuoto per pieno è intorno ai 2.700 euro. Il beneficiario può essere ovviamente anche lo studente in sede meritevole e diciamo che il grande tema è che queste borse di studio oggi riescono a soddisfare totalmente la platea di chi ne ha diritto, che è un tema non scontato, che è un tema importante, che è un tema che negli ultimi anni è sempre stato, Gioombardia ha sempre aumentato le risorse messe a disposizione per le borse di studio e dobbiamo, come dire, guardare al futuro pensando che non ci possa essere nessuno studente che ha diritto per il proprio ISE, per la propria qualità, la propria capacità di una borsa di studio e non avere i fondi per erogarla. Questo è il grande obiettivo che ci dobbiamo portare insieme e lo facciamo insieme al sistema universitario, che è coeso, quello a Lombardo, rispetto a questa volontà. Per poter richiedere la borsa di studio bisogna aspettare i bandi dei singoli atenei? Qui ci saranno una sede di bandi rispetto alle borse di studio, cui gli studenti potranno ovviamente accedere ed è un meccanismo che ormai è strutturato e che funziona.